come vado Gino? bene, solo che si è attaccato in ritardo tutto sempre composto eh? se posso andare sempre così? anche perchè io mi cerco adesso che sono andato dentro per dire ho fatto qualche movimento strano di braccia prova a lasciare sul coso, sul dorsale perchè? perchè va un po' nel bosco, un po' vieni qua, un po' di qua ma perchè qua ho fatto schifo? no ma è divertente mi sono andato a lavorare ecco mi diverto più, faccio un muro qua io vado pista partita e verticale eh? tu prendi la pista dritta e vai destra e sinistra sempre per essere donna dai eh si me la cavo no? si si come verticale d'essere fuori? uno no no bene qui bene? ho ripreso si? ho ripreso non vedi arancione? si comunque no, fai vedere ragazzi vate e non viene ah no? ah no? ma mati eh canzio ora ma io dipende come vi state mati oh i ho ripreso una ah ah la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.